salve a tutti ragazzi video misterioso guardate qui almeno l'utente che ha registrato questo video dice che è un angelo io sinceramente ragazzi non so se lo sia oppure no comunque guardate il video e giudicate stesso voi l'utente non mi ha detto dove è stato registrato mi ha inviato solamente il video quindi guardatelo e giudicate secondo voi è un angelo oppure no qualche apparizione oppure no oppure semplicemente un normale riflesso che ne so il sole no perché sta giù la luna neanche cosa potrebbe essere io sinceramente non lo so lascio a voi l'ultimo giudizio e ditemi che diavolo è ragazzi angelo apparizione o cosa come sempre al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero grazie a tutti